a breve inizierà la proiezione di uno spettacolo che si chiama fantozzi una tragedia spero che questa iniziativa sia da voi gradita contiamo di farle quanto più possibile per dare un senso più leggero a queste giornate che voi purtroppo passate qua con noi perché per noi siete i numeri uno grazie a tutti grazie buongiorno a tutti grazie a tutti